4 dicembre de Il giornalino di Giamburrasca Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni di LibriVox sono di pubblico dominio. Per ulteriori informazioni o per sapere come diventare volontario, visitate il sito LibriVox.org Registrato da Riccardo Fasol Il giornalino di Giamburrasca, di Vamba 4 dicembre Fine del 4 dicembre Fine del 4 dicembre Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti